La resistenza agli antibiotici è ormai un'emergenza per la salute pubblica, ma che cosa consiste esattamente l'antibiotico resistenza e quali sono le cause che hanno di fatto contribuito a questo fenomeno? Ne parliamo subito stasera con i nostri medici che vi presento subito. Buonasera e ben ritrovato in onda con voi al dottor Nello Broggini. Buonasera e benvenuto a Cristian Garzoni, specialista in medicina interna e malattie infettive. Buonasera anche a lei. Dottor Broggini, iniziamo con lei. Ci aiuti a capire per prima cosa che cosa sono gli antibiotici? Sembra una domanda banale, magari lo è. Non lo è affatto. Gli antibiotici sono delle sostanze che combattono le infezioni batteriche, attenzione non le infezioni virali, quindi vuole dire che le influenze non vengono curate con gli antibiotici. E di per sé gli antibiotici hanno un'origine naturale, cioè la famosa penicillina che è stata inventata attorno agli anni 40, è stata estratta dalle muffe. Il problema è che i batteri che sono attaccati dagli antibiotici sono degli organismi viventi, non sono delle cose inanimate, sono delle cose molto piccole ma che hanno una loro autonomia e soprattutto hanno la capacità di produrre loro stessi delle sostanze che inibiscono gli antibiotici. Il CRE evidentemente crea le complicazioni di cui parleremo. Senta, ma in linea generale quando è opportuno somministrarli senza entrare chiaramente nello specifico? Beh, innanzi bisogna dare gli antibiotici quando e solo quando ci sono dei chiari segni di infezione batterica. Quindi quando ci sono dei segni di infezione virale oppure dei segni di infiammazione senza segni di infezione batterica, gli antibiotici non solo non agiscono ma danneggiano la guarigione. Arriviamo al punto delle resistenze degli antibiotici. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Allora stiamo parlando del fatto che gli antibiotici producono delle sostanze che inibiscono e neutralizzano, che i batteri scusi producono delle sostanze che inibiscono gli antibiotici. Per quale motivo si è creato questa situazione di resistenza? D'una parte perché si usano troppi antibiotici, sia negli umani, noi stessi usiamo troppi antibiotici, o abbiamo usato negli anni scorsi, sia perché gli antibiotici vengono usati nella catena alimentare. Per quale motivo? Perché sono dei promotori della crescita. Cioè vuole dire che fanno crescere più in fretta e meglio in un certo senso gli animali, soprattutto gli animali di reddito. Il che ha creato evidentemente tutta una serie di scompensi. Tant'è vero che l'Unione Europea nel 1999 ha emanato delle direttive in cui ha detto non bisogna usare per l'allevamento animale degli antibiotici che vengono usati dall'uomo. E nel 2006 ha proibito semplicemente tutti gli antibiotici perché si stavano creando delle forme di resistenza molto gravi. Dottor Garzoni, abbiamo spiegato dunque perché si creano queste resistenze, ma quali sono se ci sono quelle che fanno più paura e perché? Negli ultimi vent'anni si sono ritrovati dei batteri che diventano molto più resistenti agli antibiotici, quello che era in passato. E quello che fa paura è l'abilità dei batteri di saltare da persona a persona e rendere poi un trattamento difficile. Quello forse più conosciuto tra i spettatori è lo stafilococco medicino resistente o MRSA, un batterio che ha fatto delle epidemie all'interno degli ospedali dove i pazienti vengono isolati per evitare il propagarsi. E quello che abbiamo assistito negli ultimi cinque anni è invece l'aumento di casi di batteri nella comunità. Cioè i pazienti arrivano in ospedale già con i batteri resistenti, sono molto più difficili da curare di una volta. Si può sbagliare l'antibiotico che si dà all'inizio e questa è una vera e propria epidemia che aumenterà sicuramente nei prossimi anni. L'ultimo forse rapidamente, quello che fa molto paura è la resistenza alla tubercolosi, da noi rara per fortuna, però nei paesi l'estero europeo ci sono ceppi che non sono praticamente più curabili. E questo sarà un grosso problema di salute pubblica. Senta, quali potrebbero essere dal suo punto di vista le ripercussioni? Le ripercussioni sono evidenti e la presenza di batteri non più curabili. Si rischia di tornare all'era della pre-pendicilina dove i pazienti muoiono per l'assenza di medicamenti, in quanto tutti gli antibiotici disponibili sono resistenti. Dottor Brogini, uno dei punti cruciali, mi sembra di capire, sia quello dell'abuso o di un uso non sempre perfetto, non sempre proprio degli antibiotici. Secondo lei quali sono i fattori che influenzano questa tendenza? Direi che ci sono diversi fattori. Allora, ad una parte, l'accessibilità agli antibiotici. Sappiamo che in Asia degli antibiotici o gli antibiotici vengono venduti addirittura nei chioschi. Vuole dire che ciascuno può andare a comprare un pacchetto di sigarette e nello stesso tempo un pacchetto di antibiotici. Questo è un fatto gravissimo, perché c'è un abuso e soprattutto una non idoneità della presa degli antibiotici. Poi sono i soldi, nel senso che se una popolazione ricca ha più possibilità di comprare degli antibiotici e, d'altra parte, se gli antibiotici costano poco diventano accessibili a tutti in modo disordinato. C'è poi un altro fattore che è quella della densità dei medici, perché si è visto che più ci sono medici in una regione e più vengono usati antibiotici. E poi ci sono dei fattori, diciamo, culturali o di cattiva cultura in Svizzera. I cantoni latini usano più antibiotici che non i cantoni tedeschi. Ad esempio, al primo posto abbiamo Ginevra, Neuchatelvaux, al quinto posto abbiamo il Ticino e agli ultimi posti, il 25 e il 26esimo, abbiamo Appenzello, Obvaldo, Zugo, cioè i cantoni dove hanno una maggiore resistenza anche le persone. Insomma, è una realtà non molto rosa, mi sembra di capire da questo punto di vista. Leggevo, correggetemi se sbaglio, che negli ultimi 10-15 anni sono arrivati al massimo un paio di nuovi antibiotici. Significa che le industrie non investono. Ma l'antibiotico all'industria rende poco, perché un trattamento antibiotico viene dato per pochi giorni, 5-10 giorni. Rende molto di più un trattamento su mesi e anni come un medicamento per la pressione, il colesterolo e quant'altro. Quindi questo ha generato delle campagne anche, per esempio, lo Stato americano investe fondi nella ricerca proprio per cercare di trovare nuove sostanze. Ma non c'è rischio che restiamo senza necessari antibiotici? C'è un certo rischio, quindi al di là di trovare nuove sostanze bisogna imparare a utilizzare meglio quelle che abbiamo. Il 18 novembre è il giorno della consapevolezza antibiotica. Questo proprio non l'avevo mai sentito. Comunque, una giornata voluta dall'Unione Europea proprio per sensibilizzare i cittadini all'uso corretto degli antibiotici. Direi di arrivare al punto. Qual è l'uso corretto? Dottor Garzoni aveva fatto prima accenno alle problematiche che si possono, insomma, verificare e creare negli ospedali. Che consigli possiamo dare? Ma negli ospedali evidentemente si fa una politica molto restrittiva dell'utilizzo, cioè un utilizzo mirato e per la durata lunga al punto giusto. Vuol dire che un paziente quando arriva con un'infezione spesso si dà un antibiotico alla cieca, quando si identifica poi che tipo di batterio è, si adatta in maniera mirata solo contro quel batterio per una durata limitata. Gli ospedali hanno poi dei programmi di chiaro controllo della prevenzione e della trasmissione da paziente a pazienti per evitare delle epidemie. Mentre dottor Broggini, che consiglio per l'uso corretto degli antibiotici possiamo dare invece per l'utilizzo a casa? Ecco, come medico di famiglia direi questo, allora se una persona ha febbre da due giorni, per uno o due giorni e non ha dei sintomi gravi, non si sente particolarmente debilitato, beh innanzitutto se pensa di avere un'infezione virale, perché c'è ad esempio un'epidemia di tipo virale come quelli invernali, non deve comunque prendere l'antibiotico e raccomando veramente alle persone di non prendere i resti degli antibiotici e di non farsi prestare gli antibiotici dai vicini. Capita molto più spesso di quello che si pensa. Quindi se non si sa cosa fare, ci si rivolge al medico, si dà un colpo di telefono al medico che saprà dire come fare. Se la temperatura dura più di due giorni e debilita la persona, oppure ci sono dei sintomi già sottogiacenti che possono peggiorare, una bronchite cronica, diabete, le persone anziane, ecco, allora io dico veramente rivolgetevi al medico, perché il medico saprà diagnosticare se c'è un'infezione batterica o no e soprattutto vi saprà dare l'antibiotico giusto. Io direi di passare alle domande che ci arrivano dai nostri telespettatori, passiamo con la prima che dice il medico mi ha prescritto un antibiotico per la sinusite, mi viene però qualche dubbio, io ho una bimba di tre mesi che allatto, devo smettere di allattare al seno finché prendo l'antibiotico o posso continuare tranquillamente? Grazie Cristina. Magari dottor Garzoni. Due punti, uno è che sia in gravidanza che durante l'allattamento alcuni antibiotici possono essere dati tranquillamente, altri no, quindi chiedete al medico che saprà cosa fare. La sinusite è il classico motivo per il quale il paziente va dal medico perché vuole l'antibiotico, gli ultimi studi dicono che in realtà la sinusite nel 99% dei casi si tratta semplicemente con antinfiammatori e lavaggi nasali e l'antibiotico è soltanto l'ultima razio. Passiamo, facciamo sì, possiamo farne ancora una di domanda che ci arriva da un telespettatore, da Giorgio. Un mese fa sono stato operato ad un occhio e tra le varie medicine mi è stato somministrato anche un antibiotico oculare in gocce. Ho avuto alcuni problemi, ne ho parlato con l'oculista che me lo ha sospeso. Che differenza c'è tra l'antibiotico orale e quello che va applicato come nel mio caso? Ci chiede Giorgio. Evidentemente è il riassorbimento della sostanza, l'antibiotico locale agisce solo locale, localmente e viene riassorbito in misura minima, però un certo riassorbimento c'è comunque che sia poi dalle mucose boccali o comunque dalla congiuntiva, quello che si vuole, ma comunque un certo riassorbimento c'è e va in tutto il corpo. L'antibiotico orale deve andare in tutto il corpo e deve raggiungere quella parte infetta che deve essere curata, quindi fa una bella differenza. Io vi ringrazio tantissimo per aver partecipato in onda con voi, grazie ancora al dottor Nello Brogini e grazie al dottor Cristian Garzoni. Grazie mille.